Buongiorno, come state? Ben ritrovati. Oggi è il mio compleanno, quindi tanti auguri a me. Partiamo con questa premessa. Il mio compleanno mi ricorda sempre che domani, il 26 di luglio, e il 26 luglio di quattro anni fa la Juventus vinceva il suo ultimo scudetto, il nono consecutivo, che andava a chiudere un ciclo veramente lungo, meraviglioso e godurioso. Il 26 luglio domani, quattro anni dopo, Diago Motta ha la sua prima amichevole alla guida della Juventus. Quindi mi piace pensare che il 26 luglio sia una giornata di fine e di inizio, perché lì abbiamo interrotto e qui possiamo ripartire. Sono passati quattro anni, abbiamo completato il nostro typeskip, quindi cerchiamo di andarci a prendere nuovamente un nuovo ciclo vittorioso per la Juventus. Ho grande fiducia allo stesso tempo, però ho le mie perplessità. Lo sapete, io ve ne ho già parlato, un conto è avere una propria idea, un conto invece è avere fiducia. E io riparto da qui. Ho grandissima, grandissima fiducia in quello che stanno facendo Giuntoli e Diago Motta, nella squadra che stanno costruendo e nel lavoro che stanno portando a termine. Però abbiamo delle novità, abbiamo un po' di novità e vanno commentate insieme, perché non bisogna mai ragionare per estremismi. Questo è sbagliato e pericoloso, vi invito ad allontanarvi assolutamente da ogni forma di ragionamento estremo, perché sennò si cade nel banale, nello scontato e anche a volte nel becero. Uizen e Sule. Dobbiamo discutere delle cessioni molto probabili di questi due calciatori della Juventus. Partirei da quella di Uizen, che è quella un po' più fresca, quella di Suleggio era già da ieri sera, ma ieri sera non ho avuto modo di mettermi a registrare. Uizen Bormut va in Premier League, si parla di 15 milioni di euro più 3 di bonus facili e si sta discutendo su una percentuale legata a una futura rivendita. Sono pochi? Sì. Secondo me sono pochi. Secondo me sono molto pochi. È una cifra per la quale non aver lasciato partire il ragazzo, sono sincero. Poi partiamo sempre dal presupposto che il prezzo lo fa il mercato. Se non è arrivata nessuna squadra a offrire di più, allora significa che il valore di mercato di Uizen, per quanto ne possa interessare a Luca Toselli che si immaginerà di guadagnare di più, è quello lì. E non ci si muove. 18 milioni di euro, 15 più 3 facili, più eventualmente una percentuale sulla rivendita. A me dispiace. A me dispiace per Sule e a me dispiace per Uizen. Io non ve l'ho nascosto, anzi anche nel video di ieri vi dicevo, la Juventus per arrivare a Cobmeiners e Todiboh vuole fare questo tipo di approccio. E infatti la Juventus starebbe preparando l'offensiva a Cobmeiners e la prossima settimana potrebbero esserci degli sviluppi, delle novità. C'è anche grande ottimismo da questo punto di vista. Io che sono un gran fan di Cobmeiners mi auguro che possa arrivare. Però a questo punto, allo stesso tempo, mi auguro che si possa lavorare per cercare di abbassare quella che è la valutazione, secondo me, molto elevata di 60 milioni nei confronti del calciatore. Qualcuno può tradire. Ma perché i giocatori della Juve, secondo te, devono valere di più quelle delle altre squadre di meno? E infatti, alla fine, la Juventus ha ritrattato anche a ribasso quelle che erano le valutazioni che si leggevano sui giornali, che poi magari erano le valutazioni diverse, maggiorate, un po' gonfiate rispetto a quelle che voleva la Juventus. Magari la Juventus aveva davvero in testa di cedere Uizen a questa cifra. Mi sembra un po' particolare, devo essere onesto. Secondo me è una cifra veramente bassa. Poi, stiamo ovviamente parlando di un giocatore che ancora tutto ha da dimostrare, che non ha fatto vedere praticamente niente se non sei mesi alla Roma, dove non è nemmeno stato un titolare inamovibile. Però, secondo me, sono cifre abbastanza basse per quello che mi aspettavo potesse diventare un bel prospetto, un bel talento per la Juventus. Non posso fare altro che dire che mi dispiace. Sarei ipocrita a nasconderlo, sarei disonesto a mettermi qui e a dire ha fatto bene giuntoli a venderlo a 15 più 3. Non è così e non voglio, prima parlavo di estremismi, non voglio che questo venga visto come un attacco a giuntoli o sono deluso da giuntoli. No, assolutamente no. Mi aspettavo semplicemente delle cifre più elevate. Non è un pianto, non è una lamentela, è una constatazione, una valutazione puramente soggettiva. Per quanto riguarda Sule, invece, lo ritroveremo d'avversario, lo ritroveremo contro in Serie A perché andrà a giocare alla Roma. Ieri sera è uscita quella che sembra essere una fumata bianca semidefinitiva per la conclusione di un affare che era diventata una vera e propria telenovela. Stasera, chiacchierato di tutto, ieri erano girate anche delle fake news veramente inaccettabili da parte di quotidiani rinomati come il Corriere dello Sport che dicevano che Sule sarebbe tornato addirittura a giocare next gen perché la Juventus era arrabbiata. Sule che next gen, uno, non ci poteva giocare per regolamento e due, è un asset importante sportivo ed economico per la Juve. E quindi figuratevi se la Juventus poteva andare a buttare letteralmente dalla finestra un giocatore così importante. Se Sule fosse rimasto la Juve avrebbe poi trovato spazio all'interno della squadra, magari non da titolare, ma avrebbe lottato per ottenere quante più presenze possibili. Ovviamente il next gen non ci sarebbe andato. Mi dispiace che ci sia questo grado di malinformazione e disinformazione a parte di quotidiani storici e dovrebbero essere invece la fonte di informazione per tantissimi. Perché poi quelli che non sono affini con internet, non sanno dove andare a reperire le informazioni o robe del genere, credono a tutto quello che leggono i suoi giornali. Perché i giornali sono quello che mi ha sempre informato lato calciomercato, delle gram panzane, delle gram bagianate. Però alla fine sulleva la Roma, decisiva la volontà del calciatore. Anche qui secondo me la valutazione è un po' bassina, perché stiamo parlando di un giocatore che andrà a giocare da De Rossi per 30 milioni di euro complessivi, divisi così, 26 milioni di parte fissa, 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, 2 milioni di bonus raggiungibili in maniera un po' più complicata. E la Roma e la Juventus in questo momento stanno discutendo su quella che sarà la percentuale della futura rivendita. La Juventus vorrebbe 15, la Roma vorrebbe 10 e quindi si tratta su questo piccolo cavillo burocratico, che piccolo poi tanto non è perché in prospettiva di cessione il giocatore potrebbe far arrivare nelle casse della Juventus altro denaro fresco, altro denaro sonante. Sono deluso? No, deluso no, perché mi aspettavo l'accessione in Sule, sono perplesso perché anche qui le cifre mi sembrano molto basse rispetto a quello che potevo attendermi perlomeno. Attenzione, la Juventus porta a casa comunque 30 milioni di euro da un giocatore che è venuto fuori dal settore giovanile, è stata brava, abile ad acquistare qualche anno fa, a far maturare in Serie A, dandolo in prestito al Frosinone dove ha fatto molto molto bene e ora va a monetizzare quello che è stato un vero e proprio investimento della Juventus. Quindi dal punto di vista economico-finanziario la Juventus fa un'operazione che è un capolavoro da questo punto di vista, c'è poco da dire, è una plusvalenza reale, è una plusvalenza importante, è una plusvalenza di quelle che ti fa piacere mettere a bilancio e che la Juventus da tanto tempo non metteva a bilancio una plusvalenza così forte anche a livello economico, proprio di denaro sonante. Vado a memoria, forse l'ultima è stata quella di Pogba, che vai a prelevare a zero dal Manchester e poi vendi a 100 ovviamente al Manchester. Quando ti danno del cash per dei giocatori che praticamente non hai pagato, è sempre una bella cosa. Ecco, Uisen è un'altra di queste operazioni, quindi a rigor di logica, per onestà bisogna dire che comunque dal punto di vista dell'impatto economico-finanziario la Juventus da questo punto di vista può stare tranquilla. Dal punto di vista sportivo, vi dico la verità, a maggior ragione oggi, quando vado a scorrere l'elenco degli esterni della Juventus, mi interrogo e mi dico, ma la Juve quanti altri esterni dovrà fare in questo calciomercato? Perché c'è un po' di preoccupazione su questo, non ve l'ho nascosto, vi ho portato un video la settimana scorsa dove vi spiegavo le mie perplessità. La Juventus ha ceduto Iling Junior, sta per cedere sulle, molto probabilmente cedere a Kostic, Chiesa è un giocatore che sappiamo essere sul mercato, a parte Weah, è probabilmente Ildiz che può giocare in quella posizione, cedendo anche su Le, ci spassiamo la bocca. Quindi quando vi dico la Juve prenderà almeno due esterni, ni, cioè forse a questo punto la Juve le deve prendere tre. Se escono Sule, Chiesa e anche Kostic dopo la cessione di Iling, attenzione che la Juve se non fa almeno tre esterni secondo me rimane abbastanza scoperta, perché Ildiz che può partire da sinistra, Weah che può partire da destra, sì, però almeno cinque giocatori che possano interpretare quella posizione secondo me sono necessari. E quindi, dato che la cessione di Suletti sblocca la trattativa relativa a Cobmeiners, credo che oggi la Juventus si preparerà la trattativa legata a Cobmeiners, preparerà l'offerta da presentare formalmente all'Atalanta, sia a Todiboh che Cobmeiners hanno già raggiunto gli accordi personali con la Juventus, quindi si tratta soltanto di convincere i club, ma ora l'offerta può arrivare perché ci sono state delle cessioni, ed è una cosa positiva perché ero preoccupato sul fronte a cessioni e quindi quando ne fai c'è da essere contenti. E quindi credo che la Juventus, dopo aver formalizzato gli arrivi di Todiboh e di Cobmeiners, dovrà andare a concentrarsi sulla ricerca degli esterni. Se ne è parlato di tanti, di Galano, di Pepe, di Consessao, di Sancho, ora si sta parlando pure di Adeyemi, che è un giocatore che a me piace ma bisogna cercare di incastrare delle condizioni economiche giuste, perché io me lo immagino un po' come Douglas Costa, quello che era il Douglas Costa, la Juventus, non un giocatore che partiva titolare ma non perché fosse scarso, ma perché deve essere quella risorsa in più che ti dà anche la possibilità di cambiare il volto alla partita. Poi io credo che a livello tattico Adeyemi possa essere il giocatore perfetto per Tiago Motta, per come interpreta gli esterni lui che li vuole belli larghi, è un giocatore che l'ampiezza la prende e come se la prende, quindi me lo immagino anche abbastanza sensato come acquisto per Tiago Motta. Ma poi ne parleremo magari in un video approfondimento a parte dove vi spiegherò tutta la mia idea nel dettaglio. Però io credo che la Juve ora debba ragionare su questa roba qui, perché è vero che tutti voi con Meners sono i due punti fondamentali, è vero che è arrivato Cabal, benissimo, la Juventus domani farà la prima amichevole, però ragazzi tra 20 giorni c'è la Serie A, tra 20 giorni. Oggi siamo a tutti gli effetti, non c'è timore nel dirlo, ma non c'è problema nel dirlo, anzi dobbiamo dircelo, dobbiamo raccontarci questa cosa, perché nascondercela? È così, la Juventus oggi è un cantiere, è un cantiere di quello che secondo me sarà un palazzo bellissimo. Avete presente quando passate, vedete un cantiere e c'è il render di un palazzo che sarà meraviglioso e dite cavolo quanto sarà bello questo palazzo, non vedo l'ora di vederlo. Ecco, la Juventus seme le immagino questa cosa qui, però oggi è un cantiere. E il fine lavori è il 31 d'agosto e non lo puoi spostare, non c'è la pratica burocratica che ti dice ma sì dai, dal 31 d'agosto lo finiamo in ottobre, no, chiude il mercato. Ma ancora prima del 31 d'agosto, il 18-19 di agosto, c'è la Serie A, ci sono i primi tre punti in palazzo, c'è il Como. Quindi cerchiamo di costruirlo questo palazzo. Poi facciamo bene le fondamenta, secondo me le fondamenta le abbiamo già fatte bene. Gli acquisti che ha fatto Giuntoli in questo luglio, secondo me, sono stati acquisti di livello, sono stati acquisti giusti, quelli che farà con Beners, o di Bo, che sta preparando le offerte, sono altri acquisti giusti, per ora, e basta, devi iniziare a venire su in altezza. Non può essere soltanto la base, non può essere soltanto le fondamenta, devi iniziare anche ad essere ricamato. E secondo me, i giocatori che vanno aggiunti alle rotazioni, quelli che comunque non saranno effettivamente dei titolari a tutti gli effetti, sono quell'ornamento che metti al palazzo, quindi una finestra fatta bene, o una porta di un certo livello, un colore accattivante, sono tutte quelle decorazioni che poi, alla vista, ti fanno dire ma sai che ha senso? Bene, oggi la Juventus è distante da quella roba lì, quindi molto bene che si sia sbloccato sul fronte a cessioni, alcune trattative che sembravano anche un po' morte lì, c'eravamo anche stancati di raccontarci la Roma o fra X, la Juve o la Y, lo sappiamo com'è, fino a che non si arriva a quelle offerte lì, finché non si trova l'incastro, è inutile che continuiamo a raccontarcela. Benissimo che si siano sbloccate, mi dispiace che due giocatori che per me erano importanti, come Sule e Uisen nel progetto futuro la Juventus, vengano venduti a queste cifre. Poi, il progetto next-gen della Juve è un progetto misto, lo sapete, ragazzi ve l'ho già detto, ancora una volta guai agli estremismi, non è che il progetto next-gen è fallimentare, è il progetto delle plusvalenze, non è quello, perché comunque ci sono dei giocatori che sono arrivati in prima squadra, c'è Ildis, c'è Fagioli, oggi ci sono anche Miretti, Nicolussi, ce ne sono altri che verranno fuori dalla next-gen, altri che verranno aggregati, altri che andranno in prestito, altri che verranno venduti. Cerchiamo di non estremizzare sempre tutto, perché se no diventa pericoloso. Il progetto next-gen non è un progetto fallito, non è un progetto legato soltanto alle cessioni, non è così, ci sono anche quelle, sì, sarà la maggior parte, grande sì, ma ci sono anche i giocatori che rimangono in prima squadra, sono importanti, sono impattanti, e sono dei potenziali titolari. Quindi, ripeto, grande fiducia nella Juventus, non vedo l'ora di vedere poi le cifre di Toadiboe e Cobb Mainers, sperando che possano abbassarsi anche quelle, perché se poi si abbassa le cifre di Toadiboe e Cobb Mainers, e si sono abbassate anche quelle dei soldi che abbiamo preso da Sule e Wisen, allora poi raggiungiamo un bel punto di equilibrio come piace a Thanos, e quindi siamo tranquilli. Però bisogna arrivarci a quella roba lì e bisogna lavorarci, bisogna metterci un po' di impegno, un po' di sudore in questo caldo caldissimo luglio. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. Qui sotto nei commenti abbiamo toccato tante tematiche, si sta muovendo qualcosa sul mercato della Juventus, inizia il secondo round, il round decisivo, il mese d'agosto è sempre il mese più caldo, legato al calcio mercato, più caldo in generale per l'estate, ma anche sul calcio mercato, perché poi le ultime due settimane quando inizia il campionato i giocatori non vedono l'ora di muoversi anche se sono rimasti in quella sorta di limbo. Ciao a tutti e a oggi pomeriggio.